D'accordo che quello fra il Tese San Paolo e il Federico II si articola su diversi ambiti. Il primo e il più importante è quello di realizzare con la Federico II la formazione dei ragazzi che stiamo in questo momento selezionando attraverso una modalità di assunzione che è diversa da quella ordinaria. E il cosiddetto contratto misto che si realizza attraverso una parte di contratto che è a tempo indeterminato e un'altra parte che invece si sviluppa attraverso un'attività di promotore finanziario. Da questo punto di vista l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è un tipo di formazione che abbiamo affidato a Federico II e da questo punto di vista non c'è soltanto questo specifico tema ma anche una scelta ben precisa di Tese San Paolo per cui in questo momento il 70% dei ragazzi che sono stati selezionati fino a questo momento da Tese San Paolo provengono dal sud.